Il prossimo incontro di Ban Firenze si svolgerà qui alle murate, nella sala delle vetrate, e vede la partecipazione di Ban Firenze per raccontare e spiegare meglio come funziona un Ban, ovvero un Business Angel Network, come funziona il nostro Ban Firenze, quindi quali sono le nostre particularità e la nostra organizzazione, e poi vede altri interventi che sono OpenSeed, un veicolo di investimento che è stato costituito da alcuni di noi associati a Ban, vede l'intervento poi di Clean B&B, che è uno dei nostri casi di maggior successo, che ha avuto una forte crescita in questo ultimo periodo, e poi vede come sempre la nostra tradizione un momento più conviviale, che sarà un aperitivo di networking tra gli associati e gli ospiti della serata. La registrazione è gratuita e avviene attraverso l'embrite e attraverso il link che mandiamo a tutti i nostri emailing list.